Salve, sono Rosario Piritera, capo area della TSI Italia. Ci troviamo in questo momento in Sicilia, in territorio di Scoglitti, con trada sabbia d'oro. Siamo nell'azienda Mure che ha trapiantato il cordivue Z della TSI intorno al 15 di ottobre. Il Z è una varietà, come dicevo, di tipologia cordivue, che ha tolleranza a Tilka e Tomato Spotted. Può essere coltivato in Sicilia e anche nel resto d'Italia. In Sicilia per trapianti da settembre in poi, nel resto d'Italia da febbraio in poi. Le caratteristiche peculiari di questa varietà sono di avere un grappolo abbastanza compatto, con 5-6 frutti della stessa pezzatura, quindi molto uniforme in termini di pezzature e di forma, ma soprattutto di maturazione contemporanea. Da notare le costolature molto intense, la spalla molto marcata, e soprattutto la cosa importante è la consistenza dei frutti, l'assenza di spaccature e il buon sapore. Chiaramente associato a una pianta che produce tanto, in questo caso è innestata su Top Gun, e il connubio Top Gun Z danno il top per questa tipologia in questo periodo. Top Gun Z danno il top per questa tipologia in questo periodo. Top Gun Z danno il top per questa tipologia in questo periodo.